Gioveni ammassati come sardine e quasi tutti senza mascherina dopo la foto della morida serale a Modica anche l'appello del sindaco Ignazio Abate. Altri tre vigili urbani di Ragusa risultati positivi al coronavirus e si aggiungono al caso della scorsa settimana, contagiati anche i due atleti della Virtus Club. Entro il prossimo 20 ottobre l'ospedale maggiore di Modica avrà la sua zona grigia che consentirà l'allocazione dei casi sospetti Covid. Sarà una zona separata dell'ospedale. Crescono gli incidenti sul lavoro del territorio ragusano e l'area eblea si attesta come la quarta in Sicilia. Ieri la cerimonia Anmil in memoria di tutte le vittime. Apriamo questa sera il telegiornale con la polemica che sta sollevando una foto scattata sabato sera a Modica. Si tratta di una irresponsabile movida serale dove si vedono tantissimi i giovani, quasi tutti senza la mascherina di protezione. Vediamo. Questa è la foto di un sabato sera a Modica, precisamente sabato scorso in via Grimaldi, luogo di ritrovo di locali e di movida notturna. Foto che sta facendo il giro sui social, accumulando commenti di ogni genere perché tutto sembra, tranne che un periodo di emergenza sanitaria. Assembramenti, spensieratezza e nessuno con la mascherina mentre i DPCM continuano uno dopo l'altro e si rischia un altro mini lockdown. I giovani, così come quest'estate, anche d'inverno sembrano non conoscere virus o restrizioni. Per chi ha postato la foto si tratta di un sabato sera di ordinaria follia. E' questo il commento, infatti, che più si addice, una foto che lascia trapelare un divertimento incontrollato e ci sarebbe da dire un divertimento alla faccia del coronavirus. Forse si è persa la paura del virus e per la maggior parte il lungo lockdown dei mesi scorsi è già stato dimenticato. Nella foto si vede una via nel centro storico di Modica strapiena di persone, nonostante le regole che vietano gli assemblamenti a seguito dell'emergenza coronavirus e dell'ecospicuo aumento di positivi ogni giorno anche in provincia di Ragusa. Quando ci rinchiuderanno, scrive la Modicana che ha postato la foto sul proprio profilo di Facebook, non lamentatevi di essere stati privati della vostra libertà perché la libertà, incoscienti che non siete altro, non la state meritando. Ma le raccomandazioni arrivano anche dal sindaco di Modica, Ignazio Abate. Una cosa importante che chiedo è anche ai giovani, giovani in età scolastica. Vedete quante precauzioni si mettono in campo per andare a studiare a scuola e quindi sembra tutto vanificato quando poi, due minuti dopo, quando si esce da scuola o quando si va a frequentare locali notturni, pub o andare al corso a farsi la passeggiata, poi vedo decine e decine di ragazzi messi uno sull'altro, messi accanto senza nessuna precauzione. Quindi se non vogliamo che i locali chiudano e poi sarebbe un danno reale per quanto riguarda le economie per tutti, perché andare a fare un provvedimento dove alle 22 o alle 23 di chiudere tutti i locali significa andare a colpire un tessuto produttivo importante della nostra città. Quindi l'invito che faccio è a comportarsi bene, portate dietro la mascherina. E quello che non voglio vedere è quello di andare a farmi una passeggiata e vedere tanti ragazzi senza mascherina. Questa è veramente un'offesa, una sfida che sicuramente non dovete mettere in campo, anche perché poi ad essere colpiti sicuramente non sarete voi, ma sono tutte quelle attività commerciali che saranno costrette a chiudere e quindi credo che il danno che la comunità modicana riceve sarà tanto più grande di quello di andare solo a mettervi una mascherina. Credo che è una cosa così banale, così semplice, che non dovete sicuramente mancare nel rispettare le regole. E intanto sale il numero dei positivi in provincia di Ragusa. Altri tre contagi si sono registrati tra i vigili urbani di Ragusa, poi dei casi anche nello staff della Virtus Club. Altri tre agenti di polizia locale sono risultati positivi, dopo il collega a cui era stato accertato il contagio da Covid qualche giorno prima. Il numero complessivo sale quindi a quattro, sono tutti in quarantena, in isolamento domiciliare stanno bene. I controlli sono in corso sugli altri agenti, di cui si attendono gli esiti dei nuovi tamponi, mentre la sede del comando sarà di nuovo sottoposta a sanificazione, così come mezzi in dotazione, come già accaduto nelle scorse settimane quando si viene a conoscenza del primo contagio. Positivi anche i due gestisti della Virtus Club e adesso si teme il rinvio della gara che dovrebbe essere giocata mercoledì con l'Agrigento. Due nuovi contagi ad Ispica, a renderlo noto nelle scorse ore il neosindaco Innocenzo Leontini, dopo aver ricevuto notizia da parte dell'ASP dei tamponi risultati positivi. I due nuovi contagiati sono sotto controllo, in quarantena nella loro abitazione e sono asintomatici. Gli interessati stanno provvedendo, secondo l'istruzione dell'ASP, a stilare una lista delle persone con cui sono entrate a contatto negli ultimi giorni. Sale quindi a 5 il numero dei positivi ad Ispica. Ai due delle scorse ore si aggiungono infatti tre contagiati e tra questi uno residente a Pozzallo. Il sindaco Leontini ha manifestato vicinanza ai contagiati e alle loro famiglie, dichiarandosi disponibile a qualsiasi tipo di tempestivo intervento. Dieci invece ricoverati per Covid all'OMPA di Ragusa. Due ricoveri in malattie infettive nelle scorse ore. Tra questi una turista ottantenne del Veneto giunta in territorio ibleo insieme ad una comitiva. La donna era collassata mentre soggiornava in una struttura ricettiva. Il tampone ha dato esito positivo. L'altro ricovero riguarda un cinquantasettenne. Positivi al Covid, un docente di una scuola primaria di Vittoria e un alunno di una scuola di Ragusa. Entrambi, nel frattempo, posti in isolamento domiciliare. Saranno effettuati i tamponi a docenti e alunni e saranno sanificati i locali. Altri due ricoveri per positività al Covid si erano registrati negli scorsi giorni all'OMPA di Ragusa. Un paziente era stato ricoverato nel reparto di malattie infettive e un altro in terapia intensiva. La Sicilia ha sfiorato ieri 300 nuovi contagi. La curva continua a salire. Si registra anche una vittima portando il bilancio provvisorio a 366 morti dall'inizio dell'emergenza. Entro il prossimo 20 ottobre l'ospedale maggiore di Modica avrà la sua zona grigia che consentirà l'allocazione dei casi sospetti Covid. Nel cosiddetto percorso grigio porterà i pazienti nel nuovo reparto che sarà dotato di 14 stanze, di cui una anche per la rianimazione. Sentite. Entro il prossimo 20 ottobre l'ospedale maggiore di Modica avrà la sua zona grigia che consentirà l'allocazione dei casi sospetti Covid in una zona separata dell'ospedale in modo da evitare qualsiasi contatto con il resto della struttura. L'area è stata individuata nell'attuale sede della direzione sanitaria del nosocomio che è completamente separata dai reparti. I lavori di conversione sono già in corso e da qui a pochi giorni ospiteranno i pazienti Covid o i sospetti. Il cosiddetto percorso grigio è un percorso separato per l'accesso al pronto soccorso per tutti i casi Covid e dove è necessaria all'ospedalizzazione un ulteriore percorso dedicato che porterà questi pazienti nel nuovo reparto che sarà dotato di 14 stanze, di cui una anche per la rianimazione. Fino ad oggi nel nostro ospedale non abbiamo avuto nessun caso di coronavirus fra i nostri dipendenti segno di una grandissima attenzione da parte di ciascuno di noi ma anche dall'eduzione corretta e rigorosa di tutte le procedure di sicurezza imposte in questo periodo di emergenza dichiara Piero Bonomo, direttore sanitario dell'ospedale Maggiore di Modica. L'attuale direzione sanitaria come futura zona grigia All'interno di questa zona grigia, che ha un collegamento diretto tramite l'ascensore con il pronto soccorso ha a disposizione bene 14 stanze 14 stanze dove si potranno isolare fino a 14 pazienti In più cosa abbiamo predisposto? Abbiamo predisposto una seconda sala rossa per i pazienti sospetti Covid che hanno necessità ovviamente di avere un trattamento più intensivo cioè collegato alle attività dei rianimatori L'attacca verrà posizionata all'esterno del presidio ospedaliero con un ingresso dedicato per il pronto soccorso in modo che avremo la possibilità di fare l'attacca perché sappiamo tutti che fare l'attacca all'apparato respiratorio è fondamentale nel caso di un soggetto che abbia la sintomatologia ed è positivo al Covid perché è dirimente fra il ricovero ospedaliero e l'isolamento domiciliare cioè un paziente che ha la febbre ed ha un'attacca negativa noi lo mandiamo a casa lo facciamo gestire dal suo medico curante con il supporto ovviamente degli specialisti dell'ASP un paziente invece che ha una positività all'attacca oltre ad essere Covid positivo con il tampone noi lo ricoveriamo Crescono gli incidenti sul lavoro nel territorio ragusano e l'area Iblea si attessa come la quarta provincia in Sicilia ieri la cerimonia Anmil in memoria di tutte le vittime guardate ben sei morti sul lavoro in provincia di Ragusa nell'anno in corso il doppio di quelli della provincia di Palermo appena un in meno di quelli denunciati in provincia Catania troppi per una piccola provincia che si attesta come la quarta in Sicilia per il numero di morti sul lavoro nell'anno in corso sono diminuiti sensibilmente gli infortuni sul lavoro denunciati nel 2020 1355 a fronte dei 1762 denunciati nello scorso anno dati che devono far riflettere che devono essere presi in seria considerazione per questo resta sempre valido e significativo il messaggio lanciato alle istituzioni ai datori di lavoro sulla necessità di garantire la massima sicurezza perché purtroppo anche nella provincia di Ragusa e anche in questo 2020 di lavoro si continua a morire e il senso del messaggio lanciato in occasione della tradizionale manifestazione in occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro giunta alla settantesima edizione promossa da Animil Ragusa e tenutasi ieri pomeriggio anche nel capoluogo Ibleo per la deposizione di una corona d'oro presso l'altare del monumento in Viera del Fante di fronte al palazzo dell'ex provincia un momento in cui sono stati ribaditi i concetti fondamentali legati alla sicurezza sul lavoro che purtroppo ancora oggi stentano del tutto a fare breccia non solo nella mentalità delle aziende ma anche degli stessi lavoratori per far questo ha spiegato il presidente Agnello abbiamo dato vita alla scuola della testimonianza per fare diventare i nostri soci formatori della sicurezza per trasferire nel mondo del lavoro ma anche della scuola non solo regole burocratiche ma anche emozioni e cultura della prevenzione vogliamo rappresentare inoltre i diritti negati cui dobbiamo aggiungere alla situazione degli orfani dei caduti sul lavoro che a 18 anni aggiungono alla perdita dell'affetto e del sostegno di un padre o di una madre quella del diritto alla rendita per quanto ci riguarda ha concluso Agnello anche in collaborazione con le altre associazioni abbiamo sviluppato proposte e idee nuove e adeguate a traghettarci verso il dopo pandemia E ora la cronaca con le ultime operazioni dei carabinieri impegnati a Vittoria, Scollitti e Comiso in totale due persone arrestate e sette denunciate a piede libero per vari reati Contrastare il traffico di armi clandestine e stupefacenti questi i due principali obiettivi dei carabinieri di Vittoria impegnati tutta la settimana in mirate attività di controllo e per l'ustrazione del territorio poi anche una particolare attenzione ai reati contro il patrimonio al fenomeno delle fumarole ai furti di energia elettrica numerose le pattuglie impegnate attraverso l'allestimento di molteplici posti di controllo sia diurni che notturni con servizi di perlustrazione e stessi anche nelle aree rurali del comune di Acate e nella periferia della città di Vittoria e Comiso all'esito di serrati controlli e rastrellamenti effettuati dai reparti operativi sono state effettuate 18 perquisizioni in abitazioni e casali nonché il controllo di 170 persone a bordo di 57 veicoli in totale 7 le persone denunciate a piede libero e 2 quelle arrestate a Vittoria un marocchino pregiudicato di 49 anni sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana a un ragazzo vittoriese l'uomo è stato posto al regime degli arresti domiciliari nella propria abitazione sempre a Vittoria poi un disoccupato di 39 anni trovato con 10 grammi di marijuana scoperto un pregiudicato di 47 anni allacciato abusivamente alla corrente elettrica comunale a scoglitti dei feriti in stato di libertà per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata due operatori agricoli pregiudicati di Vittoria di 62 e 35 anni poiché sorprese all'interno del proprio fondo agricolo mentre davano fuoco a un cumulo di rifiuti speciali composti prevalentemente da materiali di scarto provenienti dalla propria azienda infine a commisote ferite in stato di libertà per il reato di rissa aggravata quattro persone due italiani e due tunisini di età compresa tra i 26 e 36 anni responsabili di un'aggressione avvenuta in via Roma in particolare nella serata del 19 settembre i militari dell'arma sono intervenuti nell'ospedale di Vittoria dove era stato ricoverato un cittadino tunisino con alcune ferite alla testa e una prognosi di 25 giorni la vittima ascoltata dei carabinieri ha riferito di essere stata aggredita per futili motivi da un gruppo di ragazzi nel centro cittadino di Comiso le successive indagini hanno consentito di raccogliere elementi utili alla ricostruzione di quanto è accaduto tutte le persone coinvolte sono state identificate e denunciate per il reato di rissa aggravata saranno operative dal primo novembre all'aeroporto le nuove tratte che collegheranno Comiso con Roma e Milano a prezzi calmerati secondo il patto di continuità entro dicembre sono attese novità anche per quanto riguarda la tratta Comiso Cuneo a lungo attesa i dettagli nel servizio finalmente dopo tanta attesa è stato trovato un accordo tra l'aeroporto di Comiso Piela Torre per le nuove tratte che collegheranno la cittadina del Comisano con Roma e Milano con grande orgoglio da parte delle istituzioni e del presidente di Suaco Rosario Di Bernardo i voli saranno operativi dal primo novembre ci si potrà regare a Roma Fiumicina a partire da 38 euro con tratte bigiornaliera e a Milano Ninate con 50 euro con tratte giornaliera prezzi Le tratte saranno disponibili per i prossimi tre anni con la possibilità di viaggiare anche di notte Ad aggiudicarsi il bando è stata l'Italia e le vendite online dei biglietti inizieranno non appena verranno perfezionati gli ultimi passaggi relativi agli atti di aggiudicazione Le nuove tratte sarebbero dovute già partire in estate ma l'emergenza Covid-19 e le misure di sicurezza globali hanno rallentato l'iter burocratico Tutti i voli verranno effettuati con capienza degli aerei contingentata al fine di rispettare le attuali disposizioni di legge sul mantenimento del distanziamento minimo e i posti a sedere verranno sanificati alla fine di ogni volo Novità anche per quanto riguarda la nuova tratta con Misocuneo che sarà operativa dal 17 dicembre con i biglietti già disponibili online La tratta era già stata appaltata in precedenza a Blue Air ma l'accordo è sfumato ed è stata giudicata alla compagnia spagnola Alba Star e sarà bisettimanale con voli al giovedì alle 11.25 e ogni domenica alle 10.25 e alle 13. Il collegamento con Cuni e il Piemonte in generale è stato uno dei più attesi in quanto giudicato strategico per la struttura Infatti la tratta non coprirà solo la cittadina cunese ma anche la Liguria e la Costa Azzurra Concluso ieri solarino ex distretto militare a presentare il suo libro è stato lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio intervistato dal conduttore radiofonico e autore teatrale Massimo Ciri nell'incontro delle 21 Della gentilezza e del coraggio questo è il titolo che punta sul valore della vita democratica tra domande da porre e da porsi per una migliore convivenza civile un libro che tratta una serie di argomenti tra cui la paura che è trasformata in coraggio può essere uno strumento utile verso il cambiamento così come l'ironia e il senso di umorismo l'incontro ha avuto inizio con un confronto sul dibattito avvenuto tra Trump e Biden dove lo scrittore ha espresso il suo parere attraverso una frase di George Shaw ho imparato tanto tempo fa a non fare lotta con i maiali ti sporchi tutto e soprattutto ai maiali piace all'incontro hanno assistito anche il sindaco di Ragusa Peppe Cassì e l'assessore Ciccio Barone in prima fila un dibattito durato circa un'ora dove pochi minuti prima lo scrittore si è prestato a firmare le copie del suo libro la piazza brulicava di gente seduta a debita distanza e con indosso le mascherine dunque il tutto è avvenuto nel rispetto delle normative anti-covid con la misurazione della temperatura all'ingresso a fine incontro il direttore artistico Alessandro Di Salvo ha ringraziato i presenti per aver consentito che questa edizione si svolgesse nel migliore dei modi evitando assembramenti e problemi legati al difficile periodo pandemico che Ragusa sta affrontando così come il resto d'Italia subito dopo si è susseguito il secondo incontro alle 22 dove lo scrittore caro figlio è stato intervistato da Bruno Giordano Prova convincente per la passalacqua Ragusa che batte senza troppi intoppi la Dinamo Sassari partita condotta in tutte le frazioni di gioco dalle ragusane che vedono in tagliamento la giocatrice che ha realizzato più canestri il match si è concluso con il risultato finale di 84 e 67 per le Iblee la passalacqua Ragusa con una prova corale batte al Palaminardi la Dinamo Sassari la performance delle ragazze di Recupido è stata convincente le biancoverdi hanno condotto sempre la partita gestendola a proprio piacimento Sassari ha posto una Calum possente 23 punti e migliore realizzatrice in campo ma il resto della squadra non ha tenuto testa la squadra ragusana il quintetto Ibleeo ha migliorato la fase difensiva e ha trovato con tagliamento punti e difesa bene anche Romeo che sta trovando i tempi giusti di gioco anche Marshall ha difeso bene e ha velocizzato il gioco con un paio di ribaltamenti efficaci Coccio Recupido non ha un punto di riferimento in avanti sotto canestro come poteva essere Derica Embi nella scorsa stagione e chiede quindi velocità rotazioni e transizioni la strada è ancora lunga per trovare il giusto equilibrio ma le potenzialità delle sue giocatrici ci sono tutte le biancoverdi partono bene soprattutto in difesa concedendo pochissima la squadra di Coccio Restivo che nell'intervallo lungo aveva segnato appena 28 punti contro i 40 delle padrone di casa Ragusa che spinge ancora sull'acceleratore anche nella seconda metà di gara trovando dalla panchina contributi importantissimi come quelli appunto di tagliamento e Santucci che danno verve intensità e qualità Marshall e Social vanno in controllo nell'ultimo quarto non rischiando praticamente mai di far rientrare in partita le avversarie e si aggiudicano l'incontro con il risultato finale di 84 a 67 Sì beh loro comunque sono una buona squadra per essere una neopromossa e noi abbiamo giocato come sappiamo fare noi al meglio e abbiamo cercato di allungare gli ultimi due quarti giocando la miglior pallacanestro possibile e ci è riuscito diciamo nel migliore dei modi la cosa che mi è piaciuta di più è stata che abbiamo messo sul campo una voglia di lottare nettamente superiore a quella che abbiamo messo nelle prime due partite quindi significa che abbiamo smiato che abbiamo compreso che noi abbiamo bisogno di questo spirito per affrontare le partite in un certo modo altrimenti viene faticoso gestire altre situazioni per quanto riguarda la difesa a Bologna devo dire che tenere Bologna a 63 punti non è malissimo il problema è stato che Bologna ci ha preso 19 rimbalzi offensivi e quello si collega col discorso di prima della cattiveria della voglia di combattere la voglia di lottare che oggi si è vista di più abbiamo concesso solamente due rimbalzi offensivi in tutta la partita mi sembra che sia una cosa più più consona forse oggi è andata anche troppo bene rispetto alla norma mi piace che cominciamo a cercarci ma questo non è che non è successo nella situazione precedente è chiaro che è tutta gente nuova è un modo di giocare nuovo il nostro modo di giocare è difficile perché dobbiamo andare al mille all'ora o capire che dobbiamo giocare insieme non è una cosa che si può apprendere in poco tempo è una cosa che quando c'è tu stai facendo una cosa nuova e c'è la fisicità delle squadre avversarie che cerca di impedirtelo sicuramente fai fatica e soprattutto essendo giovani si perde un attimo di coesione quando non segni oggi abbiamo segnato spesso e abbiamo preso anche energia dal fatto di segnare dobbiamo imparare quando si segna un po' di meno a mantenere la stessa carica di energia in difesa il telegiornale è concluso vi ricordo l'edizione di domani alle 14 vi ringrazio buona serata che c'è l'edizione di domani